La Virtus Libera, in questo momento è partita la gara, Virtus Libera che vedete con la classica divisa bianco-verde che attacca da sinistra verso destra degli schermi, mentre il Tombesi calcio a 5 nella divisa gialla attacca invece da destra verso sinistra. Il Tombesi si presenta qui nel frattempo una percussione e arriva il gol del Tombesi che sblocca subito il risultato, posiziona la barriera, anzi no è Moraes, il pallone ora arriva a Cuomo, il tiro, gol, il gol, il pareggio di Raffaele Cuomo, 1-1 a tempo si libera il 2-1 il Tombesi, troppa libertà però in questo caso per il calciatore del Tombesi che ha avuto un gioco facile insomma a liberarsi, il Tombesi che appunto stavamo dicendo il calciatore ci sta ancora Medisi, poi una conclusione, la palla ancora in aria, il tiro di Cuomo, il pallone ribatte in aria, ancora Cuomo, il tiro e non si riesce a capire bene ma poi dopo un batte e ribatte il pallone è terminato fuori, è Gea che si incarica della battuta, i calciatori del Tombesi sono praticamente tutti a difesa della propria porta, pallone per Moraes, golla e stavolta la palla in rete, 2-2, Moraes può sbrigionare la sua esultanza con i propri compagni, il pallone termina sotto la travesse, il 2-2, deve richiamare al rispetto della distanza ma il battuto è di gare che insomma fa troppa filosofia in mezzo al campo, nel frattempo il pallone termina in calcio d'angolo dopo il tiro con la deviazione di meglio, vedete, ma riguarda una palla a Gea, situazione di controvede, ancora è Gea, tenta la conclusione, il tiro poi deviato, c'è stato un tocco di mani, calcio di punizione e quindi tiro libero in favore della Virtus Libera, viene anche ammonito, dovrebbero sempre esserci 5 metri di distanza e come sul pallone parte, cuomo, golla, segna la sua doppietta personale, il decimo gol sinora in campionato ma quello che conta è che la Virtus Libera mette la freccia del sorpasso, Moraes, con la Moraes salta degnamente un paio di calciatori, subisce fallo netto e ci sarà ancora tiro libero per tutto il mese ed è cuomo sul dischetto del tiro libero contro De Loso, parte Raffaele, cuomo, la parata del portiere, peccato, occasionissima della Virtus Libera e in questo momento arriva la fine del primo tempo, le squadre vanno al riposo sul risultato di 2 a 3 Virtus Libera, quindi che chiude in vantaggio il primo tempo per 3 rete a 2 e ben ritornati qui al palazzetto di Ortona, tra poco l'arbitro fischierà all'inizio di questo secondo tempo e qui si libera in vantaggio per 3 rete a 2, pallone poi in avanti, pallone in qualche modo arriva a cuomo che riesce a sgattagliare in avanti, la mette al centro, poi Moraes, un rigore in movimento, la parata, il portiere, golla, 4 a 2, la prima conclusione è parata ma il secondo, la seconda conclusione termina sotto la traversa, poi controlla Mare il pallone, alla fine guadagna calcio d'angolo, la Virtus Libera, pallone in qualche modo arriva in area, il prof Rossi, il pallone, il tiro al golla e Moraes 5 a 2, erroraccio in difesa da parte del Tombesi, stanza che comunque ruota tutti i giovani nel frattempo di partenza con Rossi, Rossi si la porta su Sisti, il pallone per Moraes, si mette a terra il giocatore, Moraes e il gol, 6 a 2, 6 a 2 si balla la Samba in terra da Brutti, subisce probabilmente un fallo ma l'intervento viene giudicato regolare, si continua pertanto a giocare, poi il palo colpito dal Tombesi, Tombesi vicino al terzo gol, poi la conclusione respinta, il pallone, Gea, il tiro, il tiro, il gol, e stavolta la palla entra in rete, il 7 a 2 da parte di Thomas e Gea e tutti quanti a festeggiare, sono 5 le reti di vantaggio da gestire, ancora una palla persa alla porta, praticamente sembrava vuota ma invece libera il pallone comunque in aria, poi c'è un fallo sul portiere subito ed è calcio di rigore, calcio di rigore è stato praticamente atterrato, Manieri e c'è anche l'espulsione per il portiere, anche lui era già ammonito, si attende quindi l'esecuzione del fisco dell'arbitro, parte Lorenzo Rossi, il tiro al gol, non sbaglia Lorenzo Rossi, spiazzato della portiere, una vittoria insomma che non lascia dubbi che stattempo arriva anche il gol dell'8 a 3 e vediamo che Lorenzo Rossi appunto trattiene il pallone, in questo momento arriva il triplice fischio da parte degli arbitri qui al palazzetto di Ortona con le ostilità che quindi finiscono e al termine di un'epica battaglia la Virtus libera porta a casa i tre punti andando a espugnare il campo della seconda in classifica per 8 reti a 3 con 4 reti di Moraes, 2 gol di Cuomo, una rete poi realizzata da Lorenzo Rossi sul calcio di rigore e poi Egea per l'8 a 3 finale.